Adol Magazine in collaborazione con The Cutting Edge presenta il podcast che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato in studio con voi, tra voi ma soprattutto per voi Massimo Foglio Amici e amici di Adol Classic ben ritrovati e benvenuti al primo episodio della quinta stagione del vostro podcast preferito sulla storia del football americano. Prima di cominciare i consueti ringraziamenti a Adol Magazine per la collaborazione nella produzione del podcast e a The Cutting Edge che ci ospita sulla sua piattaforma di podcast dedicati agli sport americani e non solo. Ben ritrovati dunque, ci eravamo lasciati alla fine dell'anno 2023 con la promessa di sentirci una volta ogni mese, siamo a aprile inoltrato, più di metà aprile 2024, ovviamente questa promessa non è stata mantenuta. Ho capito in questi mesi che non riesco più a garantire la cadenza quindicinale ma non riesco più a garantire neanche quella mensile. È stato un periodo un po' pieno di impegni sportivi, extrasportivi, abbiamo lanciato un nuovo software di rilevazione statistiche che mi ha veramente assorbito tutto il tempo possibile e immaginabile e ancora mi sta assorbendo tutto il tempo possibile e immaginabile con il servizio statistiche della FIDAF. Quindi questi mesi sono stati particolarmente problematici per registrare puntate di Adol Classic. Non vi darò quindi più appuntamento a 15 giorni, un mese, diciamo che questo podcast si trasforma in esce quando capita. Voi siete sicuramente sempre molto attenti su tutti i canali legati ad Adol Magazine e quindi sicuramente non mancherete di reperire le nuove puntate qualora venissero pubblicate. Spero di mantenere una cadenza un po' più frequente rispetto ai cinque mesi che ci hanno separati dall'ultimo episodio. Ripeto, non voglio fare promesse che poi non mantengo e quindi vedremo con che cadenza riusciremo a ripristinare questo podcast, questo Adol Classic che mi spiacerebbe molto dovesse terminare. Quindi anche se fossero poi solo quattro, cinque, sei episodi l'anno speriamo almeno di riuscire a fare quelli. Prima di cominciare con il nuovo argomento di questa puntata, volevo fare un paio di correzioni all'ultimo podcast che avevo pubblicato che era quello relativo ai New York Giants. Uno ovviamente mi era stato fatto subito notare il valore dei New York Giants odierno e ben superiore a quello che avevo detto nel podcast. Purtroppo per fare le cose in fretta avevo guardato delle statistiche di cui non mi ero reso conto della data che erano piuttosto datate, non erano molto aggiornate e quindi anche l'ammontare del valore delle franchigie non era certo quello di oggi, che è un valore che negli ultimi dieci anni è andato alle stelle. La seconda cosa non è tanto una correzione ma una mancanza che mi sono accorto perché era un argomento di cui volevo parlare era dello stretto rapporto che c'era fra i Mara e i Rooney cioè tra New York Giants e Peaceful Steelers perché inizialmente volevo fare un accenno per poi fare una puntata dedicata alla famiglia Rooney, alla dinastia Rooney con i Peaceful Steelers. Non ne ho fatto cenno non sarà occasione per fare un richiamo per una nuova puntata ma ciò non toglie che in un prossimo futuro ci sarà comunque una puntata sulla dinastia Rooney perché è altrettanto interessante come quella dei Mara a New York. Ma veniamo all'argomento di oggi. L'argomento di oggi arriva da lontano perché dopo la fine della prima stagione quindi ormai quattro anni fa sulla chat di Adul Magazine ricevetti una richiesta da Gianfri. Gianfri sono passati quattro anni hai atteso pazientemente ma finalmente sei stato esaudito nella tua richiesta. La richiesta era io mi metterei in coda per una bella puntata noir sui giocatori coach dirigenti che hanno avuto problemi con la giustizia escluso Vic che meriterebbe una stagione da solo o in alternativa una puntata medical con la corsa al doping soprattutto steroidi degli anni 80 90. Allora la puntata medical la lasciamo un po' da parte ma oggi ci concentreremo sulla puntata noir cioè su quei giocatori che hanno rovinato la loro vita di atleti e di superstar con delle stupidaggini incredibili. Come detto come proposto lasciamo stare Michael Vic perché avrebbe bisogno di una puntata intera solo per lui anche se anche alcuni altri avrebbero bisogno di puntate intere soltanto per loro ma andiamo a raccontare di alcune degli episodi alcuni dei giocatori che hanno avuto delle storie clamorose o che hanno fatto più notizia di altre anche diciamo così sulla scorta della morte di O.J. Simpson di qualche giorno fa che sicuramente O.J. Simpson rappresenta forse il caso più eclatante anche se la sua storia le sue storie arrivarono poi molto dopo che lui aveva già si era già ritirato dal football giocato quindi è sicuramente un personaggio che è indissolubilmente legato al football il primo giocatore a correre più di un 2000 yard tra l'altro in 14 partite uno dei più grandi running back di sempre che poi come come credo vi ricordiate o se non ve lo ricordate perché magari siete troppo giovani vi è stato ricordato in questi giorni fu protagonista di uno dei casi più giudiziari più clamorosi degli stati uniti e soprattutto anche di una iconica fuga su una ford bronco per le freeway per le highway di los angeles con tutta la polizia dietro come se fosse veramente un film quindi lasciamo un po anche da parte O.J. Simpson perché anche appunto in questi giorni recentemente ne è stato detto e raccontato di tutto e di più e partiamo a vedere alcuni dei casi più clamorosi che si sono verificati per giocatori in attività della NFL la prima storia di cui parliamo è quella di Aaron Hernandez Aaron Hernandez è una storia sicuramente molto conosciuta anche perché molto recentemente oggetto di un film documentario proprio su quello che è successo da Aaron Hernandez ed è una storia abbastanza tragica Aaron Hernandez aveva addirittura schippato l'ultimo anno di college a Florida nel 2010 per entrare nel draft NFL dove venne scelto dai New England Patriots tre anni di carriera sembrava destinato a una carriera fulgida una carriera in quel momento i New England Patriots erano la squadra migliore del mondo con Tom Brady, Bill Belichick e tutto quanto il corollario e lui sembrava destinato alla grandezza professionistica ma cominciò ad avere qualche problema ad esempio un suo amico venne colpito in faccia da un colpo di pistola e accusò proprio Hernandez che lo avrebbe preso di mira per un litigio in uno strip club qualche mese dopo mentre queste accuse erano ancora in piedi quindi si stava ancora cercando di capire cosa era successo qualche mese dopo la polizia del Massachusetts trovò il corpo di Odin Lloyd che usciva con la sorella della ragazza di Hernandez Hernandez venne subito accusato di questo omicidio quindi arrestato e ovviamente rilasciato dai Patriots subito dopo questo omicidio. Il processo avvenne nel 2015 processo nel quale Hernandez venne condannato in primo grado quindi finì in carcere con la pena dell'ergastolo mentre scontava l'ergastolo Hernandez fu anche processato per un altro omicidio a lui contestato di due uomini Daniel D'Abreu e Saffiro Furtado che vennero uccisi a un semaforo rosso da colpi di pistola nel 2012 però da questo processo poi Hernandez venne assolto sembrava l'inizio di un periodo di redenzione da parte di Hernandez ma qualche giorno dopo questo questo verdetto di assoluzione nel processo di questi due omicidi Hernandez si suicidò impiccandosi nella sua nella sua cella Hernandez aveva 27 anni fu una tragedia che colpì molto l'immaginario popolare e sportivo perché è vero si era stato accusato di una bruttissima cosa un omicidio della della del fidanzato della ragazza della sua ragazza fidanzato della sorella della sua ragazza però ovviamente restava sempre una una stella dello sport e il tragico epilogo di questa storia colpì sicuramente moltissimo un altro episodio che ha fatto molto scalpore negli anni passati ma in tempi recenti è quello che vede coinvolto che vide coinvolto il running back di baltimore ray rice ray rice era riduce da una bellissima stagione ma nel febbraio del 2014 tmz pubblicò un filmato in cui si vedeva ray rice trascinare la sua allora fidanzata janei palmer fuori da un ascensore di atlantic city dopo evidentemente un alterco che aveva avuto con con lei il video mostrava il corpo di palmer della palmer inerte e privo di sensi di conseguenza il giocatore di baltimore ravens fu incriminato per aggressione aggressione di terzo grado e quindi venne condannato a cinque anni di prigione per aver aggredito la fidanzata nel marzo di quell'anno però rice ricevette una sorta di grazia e riuscì a scampare al processo poiché fu accettato in un programma di riabilitazione rieducazione chiamiamolo così la nfl sospese rice per due partite e lo multò di 58 mila dollari in tanti si lamentarono di questa punizione della nfl che venne definita molto molto blanda poi a settembre nel settembre quello stesso anno quando tutto sembrava assopito vennero fuori delle riprese all'interno dell'ascensore che mostravano ray rice che faceva perdere i sensi alla fidanzata a suon di botte fu un video che provocò molto molto scalpore perché era di una violenza abbastanza grande difficile veramente difficile da guardare a questo punto i ravens lo rilasciarono dalla squadra mentre nfl sospesa tempo indeterminato rice si appellò a questa decisione ma venne venne diciamo sconfitto in appello quindi la sospensione rimase rice rilasciò un'intervista molto candida e che anche lì fece molto scalpore nel 2017 sostenendo di aver vissuto tranquillamente rontano dai riflettori e sostenendo che quello fu poi l'unico episodio di violenza domestica ma è venuta nella sua relazione con questa fidanzata che poi è diventata sua moglie arrivò a dire chi non è che non ha un disaccordo con la propria dolce metà detto sì ho capito però l'hai pestata fino a farle perdere i sensi non credo che capiti tutti i giorni ecco ma se il mio comportamento nel tempo fosse stato così serio mia moglie non sarebbe mia moglie se ne sarebbe andata sì abbiamo qualche dubbio comunque diciamo che secondo lui non era non era successo nulla di così grave comunque per questo video per questo comportamento ray rice vide troncata la sua carriera nfl proprio nel momento di massimo splendore in termini crimini brutti che oltre sì sicuramente interrompono la carriera del giocatore ma sicuramente non è la parte più importante la parte più importante è il lefferato crimine che è stato commesso possiamo parlare di ray carlout ray carlout era un ricevitore scelto nel 1997 da dall'università del colorado da parte dei carolina panthers che allora erano una franchigia in ascesa appena entrati in nfl i primi due anni carlout fu un giocatore molto importante per i panthers appunto dopo due anni avvenne però questo fatto che interruppe la carriera di carlout ma soprattutto cambiò la vita di altre due persone una di queste due persone era la sua fidanzata un agente immobiliare di 24 anni che rimase incinta carlout non voleva questo bambino la fidanzata invece non ne voleva sapere di abortire e quindi ray carlout diciamo chiamò tre amici per tenderle una trappola e ammazzarla semplicemente così perché non lei non voleva abortire e lui non voleva questo bambino e quindi diciamo le tese una trappola arrivò con la macchina la affiancò quando lei era ferma in macchina tirò giù il finestrino le sparò quattro colpi lei non morì subito morì un mese dopo in ospedale diede alla luce il bambino con un parto cesareo d'urgenza questo bambino però ovviamente ebbe delle conseguenze a questo bambino ha compiuto 18 anni nel 2017 perché questa questo fatto è accaduto nel 1999 e ha subito dei danni cerebrali quindi è un ragazzo con ovviamente un sacco di problemi ray carlout venne ovviamente denunciato e ricercato e catturato poi mentre cercava di nascondersi nel bagagliaio di un'auto fuori da un hotel in in tennessee e nel 2001 venne giudicato colpevole di cospirazione e omicidio è condannato a 24 anni 24 anni secondo me sono anche pochi visto ad esempio hernandez che prese l'ergastolo comunque le leggi leggi diverse in stati diversi comunque 24 anni dovrebbe dovrebbe uscire di prigione a breve perché è stato condannato nel 2001 quindi dovrebbe uscire se non è già uscito perché bisogna capire da quando partono questi 24 anni ora nel 2018 carlout aveva rilasciato un'intervista in cui si diceva pentito di quello che aveva fatto e che se potesse tornare indietro cambierebbe tutto detto grazie grazie mille entro intanto la sua ex fidanzata è morta e suo figlio è stato reso disabile dal suo comportamento un altro esempio di una carriera una fulgida carriera rovinata dalla propria stupidità e quella di lawrence phillips running back di nebraska che già mentre l'università venne accusato di aggressione da un altro studente un'aggressione durante un ingorgo nel traffico e poi meno di un anno dopo lawrence phillips e fece eruzione nell'appartamento di un compagno di squadra dove trovò invece la sua ex fidanzata a kate mcewen successivamente la buttò a terra e la trascinò giù per tre rampe di scale tenendola per i capelli venne arrestato sospeso dalla squadra poi reintegrato giusto in tempo per il fiesta ball del 96 e nonostante ovviamente le proteste di emilia nazionali e di tutto il corpo docente scolastico e dell'università nonostante tutte queste bandierine rosse i st louis reims che si sono sempre distinti per le scelte azzardate al draft durante il loro periodo a st louis decisero di puntare su su di lui con la sesta scelta assoluta nel draft del 1996 ovviamente meno di due anni dopo due anni dopo due stagioni dopo lawrence phillips venne rilasciato non perché fosse un cattivo giocatore ma per il suo comportamento fuori dal campo poi phillips firmò ancora con i miami dolphins dove giocò due partite prima di essere tagliato dopo aver dichiarato dopo essersi dichiarato colpevole per alcuni reati minori dopo un anno di pausa firmò con i san francisco 49ers dove il suo il suo passing block game fu così terribile da avere un ruolo determinante nella fine della carriera di steve young e poi phillips fece ancora un'apparizione nella nfl europe nei barcelona dragons prima di lasciare definitivamente il football i problemi però non sono finiti infatti phillips venne condannato a 31 anni di prigione per aver aggredito la sua ragazza di nuovo e investito tre adolescenti con la sua macchina nel 2016 lawrence phillips anche egli è stato trovato morto nella sua cella per sospetto suicidio dopo essere stato accusato della morte per omicidio del suo compagno di cella quindi evidentemente un ragazzo che aveva qualche problemino indipendentemente dal football o meno la lista dei giocatori che hanno avuto problemi extra campo potrebbe andare avanti abbastanza all'infinito soprattutto in tempi più recenti non so pensiamo antonio brown pensiamo a henry ruggs pensiamo a cecil collins del dolphins pensiamo a german whitehead e via andare plexico barres che si però in una gamba diciamo che con il passare degli anni sempre recentemente ce ne sono sempre state sempre di più ma vorrei chiudere questa carrellata con diciamo la storia di qualcuno non più tanto recente che allora fece appunto abbastanza scalpore perché non era così comune come 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 oggi siamo solo nel 1989 e i los angeles rams ancora loro nel secondo giro del draft del punto del 1989 selezionano da ucla daryl henley era un giocatore fantastico ebbe un inizio un po stentato nel nfl ma dal 91 nel 91 diventò uno dei defensive back migliori di tutta la lega divenne uno starter dei rams e firmò un contratto per 600 mila dollari nella stagione 1993 ricordiamoci che sono 30 anni fa quindi 600 mila dollari erano un gran bel contratto a quell'epoca sembrava appunto che tutto andasse a meraviglia per daryl henley che sembrava destinato alla gloria imperitura dei giocatori di football nel 1995 infatti venne arrestato per reati diciamo collegati alla droga traffico di droga ma quello non fu che l'inizio della sua dei suoi problemi perché due anni dopo mentre mentre si svolgeva questo processo per traffico di droga possesso e traffico di droga henley venne venne accusato e trovato poi colpevole di aver tentato di corrompere una guardia carceraria per cercare di far entrare e poi nascondere un telefono cellulare nella sua cella inoltre aveva anche cercato di assumere qualcuno che facesse fuori il giudice e il testimone principale del processo contro di lui arrivando a offrire 100 mila dollari per la morte di ognuno sfortunatamente per henley però il presunto killer era un agente federale sotto copertura e ai 20 anni di prigione che gli vennero combinati per i fatti relativi alla droga se ne aggiunsero altri 21 per aver cercato appunto di eliminare giudice e testimone daryl henley è quindi sicuramente una delle star dello sport e del football in particolare che ha rovinato la propria carriera con una serie di decisioni sbagliate ma sta pagando trascorrendo la maggior parte della sua vita dietro le sbarre il passato di henley nell'nfl non gli ha offerto alcun trattamento speciale in prigione come invece altrove è avvenuto e durante la sua permanenza presso la prigione di merion nell'illinois l'atleta trascorreva ben 22 ore al giorno nella sua cella in isolamento guardando una piccola tv o ascoltando la radio gli hanno consentito solo 5 telefonate di 15 minuti al mese e doveva comunicare con i visitatori attraverso una barriera di vetro utilizzando un ricevitore della prigione come si vede nei maggiori film quando qualcuno va a trovare qualcuno in prigione henley ha comunque capito l'errore che ha fatto e sta utilizzando questo tempo dietro le sbarre per cercare di migliorare la vita dei carcerati è diventato completamente un'altra persona ha ammesso di aver frequentato sempre le amicizie sbagliate e di essersi un po' montato alla testa con tutti quei soldi così giovane si pensava invincibile di poter fare tutto quello che voleva ma ovviamente si è poi reso conto che così non era quando Darlene Henley uscirà di prigione avrà 61 anni e quindi avrà passato tutta la sua vita in prigione bene questa era l'ultima storia non che non ce ne fossero altre anche un po' più datate di questa magari faremo una seconda puntata con qualcosa di più vecchio spero Gianfri di aver più o meno accontentato la tua richiesta non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto come detto all'inizio non vi do appuntamento specifico quando vedrete l'annuncio di una nuova puntata ci risentiremo grazie a tutti e arrivederci avete ascoltato? Atol Classic il podcast condotto da Massimo Foglio che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato in collaborazione con Adult Magazine e The Cutting Edge a tutti e a tutti e a tutti a tutti e a tutti e a tutti